Capita spesso che le persone quando iniziano a vivere una relazione di coppia, che possa essere un sostanzamento, che possa essere un matrimonio, quello che è, smettono di farsi desiderare, smettono di farsi desiderare e danno un po' per scontata la relazione, cioè credono che ormai che hanno iniziato una relazione, questa relazione debba essere un qualcosa di permanente, invece di permanente non c'è assolutamente nulla, tutto cambia, tutto si modifica e se noi non siamo in grado di adattarci ai cambiamenti, alle modifiche andrà a finire che decadrà prima il desiderio all'interno della coppia, poi inizieranno a decadere piano piano altri puntelli, la relazione intima, il grado di intimità anche a livello verbale e confidenziale e piano piano la relazione andrà a finire, resterà magari l'impegno, poi subentreranno delle parti esterne, delle persone esterne che entreranno dentro la relazione, gli amanti, gli antagonisti eccetera, per cui piano piano il tutto andrà a degradare. Noi dobbiamo imparare sempre a farci desiderare all'interno della relazione di coppia, per farsi desiderare all'interno della relazione di coppia, intanto non devi dare nulla per scontato e devi mantenere attivi, devi mantenere vivi i tuoi interessi, una relazione completamente simbiotica può durare per poco tempo, cioè devi dimostrare che ha interessi al di fuori della relazione di coppia, che non sei dipendente da questa persona, che riesci a coltivare delle cose che ti piacciono, a frequentare delle persone, a vedere altre persone, in modo tale che dall'altra parte non ci sia la certezza che tu sei lì bello, pronto, sempre disponibile, ma la cosa interessante quando questa cosa qua è reciproca, quindi quando si mantiene vivo alto il pathos, in questo modo è sempre necessario riconquistare ed essere riconquistati e questo fa sì che una relazione possa durare nel tempo, perché il desiderio è ciò che mantiene viva una relazione nel tempo, invece l'abitudine è ciò che appiattisce e ciò che fa finire le relazioni. E quindi non dobbiamo essere completamente coinvolti da problemi quotidiani, quali le bollette da pagare, piuttosto che il mutuo, eccetera, perché se siamo assorbiti, se le nostre energie sono assorbite da questo, è inevitabile che la relazione piano piano decada. Per cui mantenere i propri interessi, fare cose, non assieme a questa persona, ma fare cose anche per proprio conto, frequentando altre persone, non essendo sempre completamente disponibili, è ciò che mantiene vivo il desiderio, è ciò che permetterà alla relazione di perdurare con una buona qualità nel tempo. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!